Eccoci qua di nuovo in diretta da Expo Casa, sono le 16.39, siamo qua di nuovo allo stand B72 con un sacco di gente che ci passa davanti, che ci fa le feste, quindi siamo molto contenti. Siamo qua in diretta con Claudio Pasqua che adesso è andato in giro, adesso fa un po' lo reclutiamo di nuovo, ma io non sono da sola, sono in compagnia di Elena della ditta By Vino, che non, contrariamente da come sentite, non produce vino, ma bensì pannelli acustici, perché è una ditta danese. Ciao Elena, grazie di essere qua. Ciao Claudia, piacere. Senti, raccontaci un po', allora voi fate dei pannelli acustici, ma per chi? Per uso domestico, per i ristoranti, per che cosa? Per tutte le stanze, per la casa privata, per i ristoranti, alberghi, ospitali, tutte le strutture pubbliche. Certo, perché molte volte c'è questo problema, che quando si va al ristorante non si riesce a parlare, ed è un incubo perché fai finti, c'è un brusio enorme, un rumore pazzesco. Voi come intervenite? Cioè mettete questi pannelli dietro il muro, davanti, come funziona? Noi abbiamo questi pannelli, ci sono po' nasoventi, da mettere nel parete o nel soffitto, e ci sono anche, secondo me, molto decorativi, esteticamente bellissime, puoi fare come vuoi. Poi puoi colorarli, quindi si possono anche colorare. Abbiamo anche l'inulium, 20 colori diversi, abbiamo diversi tipi di legno, quindi abbiamo... Qual è quello che secondo te assorbe più il rumore? Quello che isola di più di tutti questi materiali? Eh, è uguale, perché abbiamo il feltro e tutti i pannelli che sono 50% riciclata, e la stessa feltro e tutti i materiali, sì. Ho capito. E cosa avete portato di nuovo qua a ExpoCada? C'è una novità in particolare che avete portato? Per noi non è una novità, ma secondo me è una novità per l'Italia, noi siamo tantissimo in Danimarca, Germania e Svizzera anche, ma adesso vogliamo entrare qui in Italia con i nostri belli pannelli. Certo, assolutamente, quindi incentiviamo questi pannelli che sono utilissimi veramente, perché il rumore è fastidiosissimo, quindi magari potete farli anche per studi radiofonici come per noi, studi televisivi. Abbiamo fatto in Danimarca un studio per Lucas Graham, per esempio, sì. Che sarebbe il vostro studio, non so cosa sia, scusami. Ah, sì, è una musica danese, Lucas Graham, almeno in Danimarca è molto famosa. Ma adesso diventerete famosi anche qua in Italia, vedrai con quello. Quindi sì, sì, no, in effetti questo potrebbe essere una soluzione, esatto. Quindi sia uso domestico che uso. Perfetto, allora senti, grazie mille di essere venuta qua, è stato un piacere, speriamo che questa cosa entri anche in Italia. Sveglia, voi a che stand siete, che così vi vengono a trovare? Noi siamo al stand D61. Sì? Sì. E la ditta si chiama By Vino. Perfetto, grazie mille Elena, è stato un piacere. Adesso una bella canzone.